A cosa serve l'Italia? Eh, bella domanda! Eh, non c'è futuro per i giovani, la politica fa schifo, abbiamo un presidente del consiglio che... Tu sei orgogliosa di essere italiana? Sì, abbastanza, se non avessimo questo governo lo sarei ancora di più. E cosa proporresti per migliorare l'Italia? Era una! Di togliere Berlusconi e cominciare a dare la politica in mano ai giovani. Va bene.